Ciao sono Noemi e sto facendo questo video per raccontarvi la mia esperienza col servizio di coaching online offerto da Ambra Pazzalini. All'inizio del 2020 mi sono rivolta a lei con l'intento di migliorare la mia condizione corporea attraverso l'alimentazione e l'allenamento. Come tante altre persone arrivavo da una situazione un po' frustrante a causa delle diete drastiche a cui mi sottoponevo che non facevano altro che rallentare il mio metabolismo e affossarmi nel classico effetto, nel classico effetto yo-yo. Dopo solo due mesi di coaching ho già raggiunto dei risultati ma la cosa meravigliosa è che questi risultati sono arrivati attraverso un impegno sostenibile. Infatti dopo il primo mese di dieta avevo perso due chili e mezzo e alcuni centimetri di circonferenze corporee senza mai provare la fame che si prova solitamente durante la dieta e senza mai eseguendo i consigli di ambra anche senza essere mai insoddisfatta dei miei passi. Spesso il mercato del fitness ci propone pillole magiche, beveroni per diete lampo ma quello che dobbiamo fare se vogliamo raggiungere veramente dei risultati è apprendere le nozioni necessarie per il nostro percorso e questo è quello che mi sta permettendo di fare la coaching perché tutti i consigli di rieducazione alimentare passano sempre attraverso la spiegazione e questo è importante perché se si vogliono raggiungere dei risultati che rimanghino duratori nel tempo è importante acquisire la consapevolezza di quello che si sta facendo. Consiglio la coaching a tutte quelle donne che sono stanche di fallire per diete sbagliate e quello che posso dire è che se avete fallito fino adesso non è perché siate voi sbagliate ma semplicemente il vostro metodo quello che avete usato fino adesso è sbagliato e iniziare la coaching con ambra può permettervi di acquisire il metodo giusto che può portarvi al successo